Quali sono i primi provvedimenti, massimo 5, di cui l'Italia ha assolutamente bisogno? E quali invece i temi, massimo 3 se ci sono, da cui l'opinione pubblica è ancora troppo distante? Ma, senti, secondo me, ora, al di là di fare proprio una scaletta di priorità sui temi da fare, diciamo che siamo arrivati ad un punto in cui le priorità sono veramente tante, ci sono tante riforme da fare sia per la crisi economica, ma non solo, anche per la crisi democratica che l'Italia comunque ha vissuto in questi anni, siamo arrivati a dover farne tante di cose, anche perché negli ultimi 20 anni, anche forse più, non sono state fatte tantissime cose, anche spesso promesse. Sicuramente ora la crisi economica è quella che ci fa soffrire tutti di più, quindi mi verrebbe in mente subito di pensare proprio a dei sistemi come il reddito di cittadinanza, dei sussidi forti di disoccupazione, per pensare proprio a quelli che hanno perso il lavoro e che sono in difficoltà economiche. Però ci tengo a precisare anche che la crisi che stiamo vivendo è una crisi economica, ma che deriva, secondo anche grandi esperti, da una crisi sostanzialmente di fiducia, di fiducia dei cittadini verso le istituzioni, di fiducia dei mercati nei confronti dell'Italia, di fiducia fra i vari paesi europei, ed è importante ricreare questa fiducia fra cittadini e istituzioni anche dei mercati verso l'Italia. Per fare questo c'è bisogno anche di gesti simbolici. La politica per troppo tempo ha detto che certi provvedimenti erano populisti, hanno detto che certi provvedimenti non sarebbero serviti, mi riferisco chiaramente a Italia e alla politica, è stato detto che non servivano per rimettere a posto i bilanci dello Stato, sono tutte cose vere, ma in politica e in un popolo comunque ha bisogno, necessita anche dell'esempio della propria classe dirigente. La classe dirigente non si renda conto della necessità di dare il buon esempio, è una classe dirigente che merita di andare a casa. E per quanto riguarda, mi dicevi, mi chiedevi il discorso del da che cosa è più lontano, diciamo le persone forse sono ancora lontane, io soffro molto a vedere molte trasmissioni anche televisive, e comunque guardo ovviamente perché i temi sono veramente trattati in un modo, cioè senza la volontà di spiegare, di aiutare i cittadini a capire certi problemi, certe tematiche e dove vengono presi realmente le decisioni, cioè sembra che le persone nel salotto televisivo siano lì a ragionare e a decidere loro e quindi a farti partecipare, ascoltando i loro discorsi, le decisioni, quando in realtà i processi decisionali sono molto più articolati e complessi, ormai sono spesso anche fuori dall'Italia e quindi se non si affrontano anche temi come effettivamente l'euro, l'integrazione europea, la banca centrale europea e non si spiegano ai cittadini veramente la nostra democrazia è veramente qualcosa di molto formale, poco sostanziale. Io credo che l'Italia abbia sicuramente bisogno intanto di rimettersi in pace con la politica e in questo la politica deve dare l'esempio. Serve sicuramente partire da lì, moralità pubblica e quindi incandidabilità per chi è sotto processo, riduzione del numero dei parlamentari, riduzione di tutti quegli privilegi insopportabili che hanno creato questa distanza enorme tra la politica e i cittadini. Poi l'Italia ha bisogno di altro, ha bisogno che qualcuno si preoccupi di lavoro, di rifinanziare la casa integrazione e di dare un salario minimo a chi oggi è precario e resta senza lavoro. C'è bisogno di rimettere in mano alle aziende i crediti che hanno rispetto alle pubbliche amministrazioni, c'è sicuramente bisogno di ridare spazio al credito, abbiamo tantissime aziende che chiudono perché le banche hanno preso i soldi dall'Europa ma non li rimettono in circolo e quindi problemi enormi di liquidità per le aziende che chiudono e questo vuol dire disoccupazione e abbiamo sicuramente bisogno di chiedere con forza un cambiamento in Europa, non possiamo più vedere vicende come quella di Cipro o della Grecia che abbiamo visto negli ultimi mesi, abbiamo bisogno di un'Europa che sia solidale e amica dei cittadini, vuol dire cambiare tutto, io credo che siano queste le questioni da cui partire. La vecchia forma partito, nata e inutilità lontano da internet, imparerà ad usare questo potente strumento o finirà intrappolata nella rete? E visto che non siamo riusciti a sorvegliare il palazzo reale, in cosa dovremmo essere pronti per quello virtuale? Internet è sicuramente una rivoluzione dal punto di vista delle potenzialità che dà comunque di comunicazione e di condivisione per le persone e per i cittadini, questo voglio dire penso che siamo tutti d'accordo da questo punto di vista, poi però è anche uno strumento, uno strumento bisogna vedere come viene utilizzato. Io credo che ancora un partito tradizionale se ha una visione partitocratica comunque di dirigere la comunicazione dall'alto verso il basso sostanzialmente userà internet come può utilizzare altre formule di pubblicità elettorale. Quello che il Movimento 5 Stelle vede in internet è comunque la possibilità effettivamente di creare rete, di far partecipare le persone attivamente, non solamente come elementi passivi, cioè della serie dire sì sono d'accordo, no non sono d'accordo, ma proprio collaborando a costruire qualche cosa, progetti, qualche cosa di estremamente concreto, cioè parte attiva del processo decisionale. È difficile, ci vuole comunque tempo, non è una cosa che si può fare e poi deve essere calata anche nelle istituzioni, quindi rapportarsi con poi dei regolamenti e quant'altro, però insomma soprattutto a livello locale è stato fatto e viene fatto. Dicevi poi il discorso del palazzo, sicuramente internet a punto di vista di trasparenza permette e concede di essere estremamente trasparenti, ci vuole anche la volontà di esserlo chiaramente, quindi quello dipende, poi torna ad essere diciamo una volontà politica. Beh, quella che te chiami la vecchia politica ha avuto un problema rispetto alla rete, l'ha considerata uno strumento di comunicazione e non uno strumento di partecipazione, io credo che la svolta, uno strumento importante di apertura dei partiti tradizionali sia nella capacità di cogliere la straordinaria potenzialità della rete come strumento di partecipazione. C'è bisogno di controllarla a quel punto come c'è bisogno di controllare il palazzo reale. Di questi giorni tantissime polemiche sulle censure che vengono fatte online, sulla capacità di chi controlla la piattaforma su cui scrivi di condizionarne la discussione. Io credo però che sia una questione centrale. Oggi possiamo trovare in un momento in cui i tempi di vita non sono più conciliabili con una partecipazione politica classica, le informazioni sono ovunque sulla rete, possiamo trovare lì dentro uno strumento per provare a mettere in mano ai cittadini modalità nuove e attive di partecipazione. L'esempio del Movimento 5 Stelle è interessante, io credo che a loro manchino diversi aspetti che utilizzandolo noi dovrebbero sicuramente migliorare. La capacità di essere seriamente trasparenti per quello che riguarda gli strumenti e i momenti decisionali sulle scelte. Partecipare non è fine a se stesso, partecipare è utile se poi si decide. Io credo che dovremo provare a capire come integrare la politica classica e la politica online per aumentare e rispondere a quella voglia di partecipazione che c'era fortissima nella società, specialmente tra i giovani.